Per i giorni di Pasqua un cittadino lombardo potrà volare alle Canarie ma non potrà andare a trovare un parente a Vercelli o a Piacenza. È l'effetto dell'impianto di norme e di vieti per l'imminente periodo di vacanze. Nelle scorse ore il Ministero dell'Interno ha specificato con una nota protocollata che chi deve andare all'estero per turismo può raggiungere l'aeroporto anche se si trova in una regione arancione e rossa. Una precisazione questa che fa infuriare il Federalberghi che ricorda come invece l'ospitalità italiana si afferma da mesi a causa del divieto di cambiare regione. Da sottolineare ancora una volta le regole in vigore per i tre giorni di Pasqua fino a venerdì in Lombardia, rossa, spostamenti vietati anche per le visite ai parenti. Ma nei giorni 3, 4 e 5 aprile, sabato, Pasqua e lunedì dell'Angelo sarà consentito, recita il sito del governo, spostarsi una sola volta al giorno verso un'altra abitazione privata della stessa regione tra le 5 e le 22 a un massimo di due persone oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. È invece sempre consentito spostarsi verso le seconde case con le regole già vigenti. L'abitazione deve essere disabitata e si deve avere un titolo di possesso o di affitto precedente al 14 gennaio, a patto che non si trovi in una regione che ha deciso di vietarlo. In Sardegna ad esempio non si può, in Liguria si. non si. non si. non si. non si. non si.